Ieri gli agenti della Polizia di Stato e dell'Ufficio Polizia di Frontiera di Salerno insieme alla Guardia Costiera hanno tratto in arresto un 38enne marocchino con numerosi precedenti verreati contro il patrimonio responsabile del furto di un telefono cellulare e di un orologio, rubati entrambi da un'imbarcazione ormeggiata nel porto commerciale. Gli agenti che hanno notato l'uomo mentre si allontanava dall'area portuale lo hanno bloccato e perquisito, trovandolo con la rifurtiva. Una volta identificato il nordafricano, privo di documenti, è risultato già sottoposto ai domiciliari presso la sua abitazione in provincia di Napoli. Pertanto, dopo le formalità di rito, è stato tratto in arresto per furto aggravato ed evasione e condotto presso la casa circondariale di Salerno in attesa del giudizio di convalida.